Stanno seminando il terrore nelle vie di Foggia, saltano distributori automatici H24 sparsi per la città distruggendogli la disperazione di uno dei titolari delle attività prese di mira. Il miracolo della mana di San Nicola si ripete ancora dietro la commozione silenziosa dei fedeli e con le accorate parole del cardinale Pizza Balla e quelle del vescovo statriano anche il sindaco De Caro affida al santo la sua preghiera. Stasera il Bari si gioca le ultime chance salvezza in casa contro il Brescia, ai biancorossi servirà a vincere per puntare ai play-out e in caso contrario rischiano una retrocessione diretta in Serie C. Edizione dedicata alle province di Bari-Battefoggia del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché stanno seminando il terrore nelle vie di Foggia, coloro che stanno prendendo di mira assaltandoli gli H24, i distributori automatici. Abbiamo ascoltato il titolare di una di queste attività, sentiamo Antonella Davola da Foggia. Sono dei ragazzi che vengono da situazioni difficili, il papà sta in carcere, uno di queste persone. Diciamo a noi, siccome sono ragazzini piccoli, noi li volevamo individuare più che altro per andare dal preside, perché lo vanno a scuola, quindi andare dal preside di questi ragazzi e dire qualcosa, cercare in qualche modo di farli rimproverare o punire in qualche modo. Sono tutti minorenni e hanno al massimo 13 anni, ragazzini che da qualche giorno terrorizzano le vie di Foggia, divertendosi a distruggere i distributori automatici H24 sparsi in città, non curanti delle telecamere di videosorveglianza, a pubblicare in un post sul proprio profilo Facebook le immagini di quanto accaduto nelle scorse ore in uno dei distributori del centro storico, il titolare dell'attività, che ha rivolto un appello all'intera comunità per individuare i responsabili, proponendo provocatoriamente anche una ricompensa economica. L'appello che bisogna fare è questo, quello di cercare di sensibilizzare le persone che anche li vedono, perché è capitato più spesso che mentre la persona apriva le macchine o comunque faceva questo atto volto a delinquere, le persone consumavano a fianco, quindi l'appello che io faccio è quello di sensibilizzare un po' anche perché la nostra azienda, Aristomatic, ha investito tantissimo in questi H24 nel corso degli anni, ne ha aperto quasi una decina, quindi abbiamo messo anche dei distributori che sono futuristici, cioè tipo dei supermercati, ce l'hanno distrutti, quindi abbiamo fatto un passo indietro, a parte che abbiamo perso l'investimento che abbiamo fatto, ma abbiamo fatto un passo indietro e quindi non possiamo utilizzare cose che in altre città, Milano, Roma ce l'hanno, noi dobbiamo solo vendere bevande, patatine e acqua perché dobbiamo essere preda di queste persone. Abbiamo ascoltato il prefetto, la prefetta della BAT, Rossana Riflesso, che sta per lasciare il suo incarico nella sesta provincia pugliese, si è detta contenta del lavoro svolto, infatti è stato ridotto notegualmente il numero dei furti di auto, uno dei problemi più seri che affliggeva la sesta provincia regionale pugliese, e poi ha detto lascio un pezzo di cuore, l'intervista di Salvatore Petrarolo. Da una parte c'è la soddisfazione per quella che lei stessa definisce una progressione di carriera con la nomina prefetta della provincia di Avellino, dall'altra ci sono le emozioni difficili da contenere, ora che è arrivato il momento di lasciare la sede della prefettura della BAT. Il contrasto lo racconta ai nostri microfoni, la dottoressa Rossana Riflesso, prefetta della sesta provincia pugliese, destinata appunto, su indicazione del ministro degli antedosi, in Irpinia. Da una parte sono anche contenta, come dire, di progredire in carriera e quindi di andare in una prefettura più grande e quindi anche per certi versi più impegnativa, per certi versi. D'altro canto è chiaro che io lascio qui parte del mio cuore. I due anni di incarico svolti nella BAT, racconta la prefetta Riflesso, sono stati segnati da tanti risultati ottenuti, i patti per la sicurezza e la sottoscrizione dei protocolli della legalità con i comuni, che rappresentano un passaggio di testimone per la nuova prefetta Silvana D'Agostino. Un territorio, quello della sesta provincia, con criticità che non vanno sottaciute, come quella della criminalità, ma che sono state affrontate con la collaborazione delle forze dell'ordine e della procura. E anche sul fronte dei furti d'auto, fenomeno che fa primeggiare in negativo la BAT, i risultati parlano di una inversione di tendenza. Anche per quello che riguarda i furti d'auto, sono stata la piaga più grande di questa provincia, tanto da portarla ad essere la prima come numero di furti d'auto nel 2021, credo di ricordare, e 2022, poi già nel 2023 sono calati e continuano a calare. Ancora nessuna notizia della giovane di 19 anni, scomparsa da quasi un mese a Lucera, nel Foggiano. Intanto continuano le ricerche. Vediamo a che punto sono. Diana Maria Veneziano, 19enne, residente a Lucera, nel Foggiano, non si hanno più notizie dalla mattina del 16 aprile scorso. A quanto si apprende, la ragazza non ha con sé documenti, né cellulare, e nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà. Alta 1,70 m, occhi e capelli castani. Anna Maria quel giorno indossava una felpa nera, dei pantaloni e uno zenetto, entrambi di colore scuro e scarpe da ginnastica chiare. A seguito della denuncia di scomparsa effettuata dai familiari e dalla casa famiglia che la ospita, è stato attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, coordinato dal locale commissariato. La 19enne quella mattina era uscita dalla casa famiglia di via Indipendenza, dove risiedeva da una decina d'anni, per raggiungere un'altra struttura in piazza Murialdo, ma non è mai arrivata all'appuntamento. Il suo potrebbe essere un allontanamento volontario, come già accaduto qualche anno fa, quando la ragazza fu ritrovata presso la stazione di Foggia. Ma gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella delittuosa, e hanno allargato le ricerche anche in altri comuni della provincia, tra cui il capologo Dauno e Manfredonia, dove nelle scorse ore sono stati segnalati alcuni avvistamenti, che però non hanno portato ad alcun risultato. A Foggia, via Spalato, chiuso al traffico per favorire il lavoro degli esperti dopo il ritrovamento di un ordigno bellico. Vediamo le immagini. Il comando di polizia locale del Comune di Foggia informa che da ieri sera fino al termine delle esigenze è stato interdetto al traffico veicolare il tratto di via Spalato, compreso tra Vico Cervo e l'incrocio con via Onorato. Nella strada sarà consentito soltanto il transito dei mezzi, dei cittadini residenti. La misura si è resa necessaria per facilitare il lavoro degli esperti, chiamati in seguito al ritrovamento dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, trovato in un cantiere della zona. Le autorità intervenute hanno evidenziato che dopo la messa in sicurezza eseguita non è necessario disporre particolari misure per la cittadinanza, se non l'interdizione assoluta dal sito del cantiere. Per questo la polizia locale di Foggia presiderà in via continuativa l'area interessata per evitare intrusioni e garantire il regolare svolgimento delle operazioni previste dai protocolli legati al ritrovamento di ordigni bellici in coordinamento con la prefettura di Foggia. A Barletta c'è un nuovo ufficio passaporti che è stato realizzato all'interno della stazione ferroviaria, gestito dal Polfer. Sentiamo Antonio Cargano. La questura della BAT inaugura il nuovo ufficio passaporti presso la stazione ferroviaria di Barletta. Il nuovo sportello attivo presso gli uffici della Polfer in piazza Conte Duca permetterà ai cittadini, nonché ai numerosi pendolari che affollano i binari della sesta provincia pugliese, di richiedere il rilascio del documento e di ottenerlo entro una settimana. Procedure già avviate da venerdì mattina. L'obiettivo è quello di snellire le numerose richieste giunte dal territorio. Stiamo acquisendo la pratica, l'utenza si presenta dopo aver prenotato direttamente tramite agenda con tutta la documentazione, quindi il modulo, i bollettini pagati e noi procediamo con l'acquisizione diretta delle fotografie. Il sistema acquisisce il tutto che verrà poi processato e lavorato in questura e poi verranno stampati i passaporti che verranno poi consegnati direttamente qui ai richiedenti. La procedura è abbastanza veloce, noi contiamo nell'arco di una settimana di rilasciare il documento dal momento dell'acquisizione. Lo sportello attivo negli orari mattutini si aggiunge a quello già inaugurato presso l'ospedale Bonomo di Andria, dove l'ufficio passaporti agevola le richieste degli assistenti e dei parenti dei degenti. L'agenda prioritaria è dettata dai vertici nazionali, traccia la via per rendere il servizio più rapido e più funzionale. I numeri sono ottimi, anzi posso dire che stiamo registrando addirittura un allentamento della pressione sugli sportelli per questo tipo di istanze. Abbiamo dei posti ad esempio in questura in agenda che non vengono coperti anche se disponibili. Ovviamente facciamo fronte a tutti i tipi di esigenze dei cittadini, per le urgenze c'è sempre l'agenda prioritaria, ma riusciamo a coprire anche con quella ordinaria. Torniamo adesso nel capoluogo regionale perché ci sono ancora problemi con la pavimentazione nella centralissima via Sparano. Lavori in corso soprattutto, difficoltà all'angolo con via Dante, un'area molto trafficata. Ma cosa ne pensa la gente, cosa ne pensano i baresi? Lo abbiamo chiesto tastando il polso ai cittadini. Vediamo. Ancora problemi, ancora interventi da rifare. La pavimentazione di via Sparano non conosce pace. Siamo all'angolo di via Dante, nel centro di Bari. Non un problema insopmontabile, ma una situazione comunque fastidiosa e che tende a ripetersi. Quale potrebbe essere il problema alla radice? Perché abbiamo messo i batteri a scadendo, perché qua è convincente all'angolo di via Tumbe. E ora via Dante, ora via Puglice, via Puglice, via Puglice. Proprio per l'altro rovinare, i batteri a scadendo, via Puglice. Ci vuole nacchia, ci vuole nacchia. Perché aspettano prima che la cosa si deve rompere, qualcuno si deve fare male e poi intervengono. Ma non solo qua, angolo di via Dante, Sparano. Un po' dappertutto per la città. Libertà, madonella. Tanti lavori, sono utili, diciamo che sono utili. L'importante è che non creino troppo disturbo, a meno per quanto mi riguarda. Infatti per questa pavimentazione come si può fare? Serve una qualità migliore? Una qualità migliore non esiste, anche perché mettere i mattoni è improponibile per le auto. Quindi bisogna andare per forza a ritornare al catrame. Possono solo aggiustare meglio i marciapietti. Visioni varie dunque, tutti però concordano su una necessaria sicurezza in centro, come nelle aree più periferiche, anche per evitare spiacevoli incidenti. Ad ogni modo i lavori per rimediare sono già in corso e presso la strada sarà completamente percorribile anche in questo tratto. E adesso parliamo del miracolo della manna di San Nicola, che si ripete ancora dietro la commozione silenziosa dei fedeli e con le accorate parole del Cardinale Pizzaballa e quelle del Vescovo Satriano. Anche il sindaco di Bari, De Caro, affida al Santo la sua preghiera. Ilaria del vino. Si ripete il rito della Sacra Manna a tantissimi fedeli in fila nella Basilica di San Nicola Bari per baciare l'ampolla con l'acqua santa che si forma nella tomba dalle ossa del Vescovo di Mira, per i credenti un miracolo che ricorre da tempi molto antichi. Il prelievo del liquido chiude così le celebrazioni in onore del Santo Patrono di Bari. Le sue ossa restano chiuse nella tomba tutto l'anno, proprio fino alla sera del 9 maggio, quando il sacerdote apre il foro dal quale fuoriesce la manna, un'acqua di particolare e intensa purezza, come d'analisi del Laboratorio di Chimica di Bari del 1925. Alla messa, presieduta dal Cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e insieme al Vescovo Giuseppe Satriano, hanno partecipato le istituzioni, le più alte cariche civili e militari e fedeli da tutto il mondo. Perdono, verità e giustizia sono state le parole su cui il Cardinale ha plasmato la sua omedia. Perdonare non significa dimenticare il dolore subito, spiega, ma trascenderlo, e insieme a parole di verità e giustizia innescare riflessione e cambiamento, ritrovare se stessi nelle differenze con gli altri, rispettandosi e facendosi prossimo dell'altro con l'aiuto. Anche Satriano ha introdotto così la celebrazione pregando il superamento della logica dello scontro nelle relazioni e invocando il dono della riconciliazione. Ha parlato anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro, con un saluto commosso per tutti i baresi. La giornata in cui i baresi si stringono tra di loro. Quali preghiere da credente affidiamo? Io ieri, dopo aver cantato insieme a padre Giovanni e a padre Giuseppe il responsorio, ho ricordato due frasi che ci sono nel canto del responsorio di San Nicola. Cessano i pericoli e si plagano le tempeste. Io spero che questa città non abbia pericoli e non ci siano tempeste per il futuro. Ho augurato felicità, come diceva un vecchio sermone dell'Ottocento, ortodosso, diceva felice Bari. Ecco, spero Bari sia felice per sempre. Ed esiste anche un percorso turistico per San Nicola. Vediamo qual è nel servizio di Domenico Brandonisio. Un itinerario storico, turistico e culturale dedicato al culto di San Nicola e che sarà realizzato nella città vecchia nell'ambito delle politiche di valorizzazione del territorio promosse dall'amministrazione comunale. La presentazione a Bari ha lo scopo di attrarre turisti e amanti della storia. Il percorso di oltre due chilometri di lunghezza toccherà i luoghi legati alla storia e al culto del Santo Patrono e sarà segnato dall'installazione sul piano stradale di 300 pietre d'inciampo in ottone raffiguranti 11 differenti varianti tematiche e iconografiche legate a San Nicola appositamente disegnate dall'artista Vincenzo D'Alba. Il progetto, promosso dall'assessorato alle culture su impulso del Rotary Club Bari Sud è stato condiviso per la parte tecnica con l'assessorato ai lavori pubblici e redatto dalla Chiasmo SRL. Abbiamo cercato di rileggere in chiave contemporanea il culto nicolaiano e di rappresentarlo attraverso delle icone. Sono 11 icone che sono state disegnate da Vincenzo D'Alba, che è un architetto e un artista e che appunto interpretano il culto nicolaiano attraverso delle immagini astratte e semplificate. Quindi c'è il volto del Santo, c'è l'immagine di un mosaico bizantino, c'è la mitra, ci sono le tre sfere con il libro, quindi tutta una serie di riferimenti dedicati a San Nicola che sono stati riletti e che sono stati immaginati proprio per segnare questo percorso di 11 tappe. E andiamo a Terlizzi adesso dove la sagra effigie della Madonna di Fatima è atterrata presso il campo sportivo in elicottero e resterà in provincia di Bari fino al prossimo 13 maggio. Andrea Catino E' arrivata a bordo di un elicottero dell'Ali Daunia, la sagra effigie della Madonna di Fatima. La pellegrinazione mariana dal Portogallo a Terlizzi ha attirato presso lo stadio comunale, trasformato in eliporto, l'intera comunità dei fedeli locale e tutta la diocesi, presenti le massime cariche civili, militari e religiose che hanno seguito il festante corteo che ha attraversato la città. Siamo nel mese dedicato a lei, a Maria, ed è un dono per noi. Ecco, è una esortazione che la mamma fa ai propri figli di convertirsi, di pregare, di fare opere buone, per cui penso che sia rispetto a tante altre opportunità, occasioni, una circostanza più rara che quotidiana e che comune, quella di sentire anche la vigilanza fisica della venerata immagine della Madonna di Fatima. Un momento storico non solo per il clero e per i fedeli, ma per l'intera comunità di Terlizzi. I cittadini terlizzesi, come quelli di tutta la diocesi, si caratterizzano per la loro devozione alla Madonna, la Madonna che si manifesta in tutte le sue declinazioni. Oggi per noi la Madonna di Fatima qui davvero raccoglie tutti quanti come fratelli e sorelle di un'unica grande comunità che vuole tutto il meglio, non soltanto per la comunità ma anche per tutte le famiglie. Quindi si pensa a chi non sta bene, a chi ha bisogno di ritrovare proprio quel senso di fratellanza e di comunità che ci rende solidali tra noi. In attesa dell'esibizione di domenica pomeriggio, la PAN, ovvero la pattuglia acrobatica nazionale è atterrata sulla pista dell'Aeroclub di Bari per poi spostarsi a Trani per il tanto atteso air show. Sentiamo Antonella Fazio. Mentre Trani si prepara ad accogliere la bellezza delle frecce tricolori domenica prossima, la PAN e la pattuglia acrobatica nazionale atterrabari nella sede di Aeroclub per poi prendere parte a una serie di appuntamenti che vedranno i 10 piloti dell'aeronautica militare guidati dal tenente colonnello Massimiliano Salvatore, fresco di nomina, impegnati in attività collaterali. Si inizia già sabato pomeriggio quando nella sala consigliare di Palazzo Palmieri sarà conferita la cittadinanza onorare all'aeronautica militare a cui farà seguito in Piazza Quercia il concerto della fanfara del Comando Scuole Terza Regione Aerea. La pattuglia acrobatica nazionale, nell'unica tappa al sud Italia per il 2024, proporrà il suo programma acrobatico completo che sarà poi presentato in tutte le esibizioni della stagione che quest'anno prevede anche una serie di air show in Canada e negli Stati Uniti nell'ambito del North Atlantic Tour. Ci fa molto piacere cominciare la nostra stagione fuorisede proprio in Puglia. La Puglia è una regione che ci accoglie sempre con tanto calore, è una regione molto importante per noi, abbiamo molte basi dell'aeronautica militare. Questa manifestazione in qualche modo è proprio la sintesi del gioco di squadra che caratterizza non solo la battuglia acrobatica nazionale, ma l'intera forza armata, l'aeronautica militare. Trani è una città bellissima che merita sicuramente questo air show. Ci sarà un air show completo con i fumi colorati la domenica, mentre il sabato le prove allo stesso orario di domenica alle 17 con i fumi bianchi. E questa sera si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie B per la stagione regolare. Il Bari ospita il Brescia. Noi vogliamo fare una sorta di anticipazione della pagina sportiva perché il Bari deve vincere per disputare i play-out e anche in una condizione di classifica favorevole. Sentiamo cosa ne pensano i baresi, i tifosi biancorossi. Potrebbe essere l'ultimo atto della stagione del Bari o forse no, dipende dai biancorossi, ma non solo. La gara col Brescia mette in palio la permanenza in Serie B. L'ansia tra i tifosi è tanta, così come l'incertezza per quanto riguarda il futuro. Speriamo bene per la permanenza in Serie B. La squadra lotti e si deve fare per salvare la categoria almeno. Ci credi alla salvezza? Sì, sì. La salvezza ci credo, però si devono un po' smuovere i giocatori e trovare un po' le motivazioni, soprattutto per cercare di far gol. Sì, è delicato, non si dovrebbe arrivare a questi punti. Cioè, calcola che l'anno scorso di questi tempi, no, 15 anni fa si andò in Serie A, quindi è un peccato. Un rammarico a pensare. Si soffrirà, si soffrirà, ma andiamo a incitare sempre, con la speranza che Sanicuro ci fa il miracolo. Proviamo ad azzardare un risultato, quanto finisce? Non lo so, non lo so e non lo voglio immaginare. Andiamo e la vediamo. La società che cosa deve fare a fine stagione comunque vada? Io penso che la società debba cambiare radicalmente. La società e chi ha promosso questa società è la proprietà del Bari, debba andare nelle mani dei baresi. Sugli spalti, per una gara che vale una stagione, è prevista circa 20.000 unità. Qualcuno di loro arriva anche dall'estero, come questa coppia di giovani ungheresi, turisti per il calcio, ma non solo. Voi al stadio domani? Sì, vorrei. Perché Bari-Brescia? Perché siamo turisti e venivamo lì e vogliamo visitare un match qui. Da dove sei? In Londra. Quindi per Bari? Per Bari, domani Bari vanno, credo, perché siamo qui. E adesso torniamo a Trani per un'iniziativa che è a metà strada tra la cultura e il sociale. Vediamo il servizio di Maria Fiorella. Si chiama Favolosa ed è la varietà di olio che ha contribuito a salvare l'olivicoltura salentina dall'axilella. La FS17 è una delle due cultivar insieme alla leccino resistente agli attacchi dell'axilella fastidiosa, l'infezione che impedisce agli alberi il passaggio dell'acqua attraverso i vasi e che sta distruggendo gli ulivi pugliesi. Evoluzione delle tecniche, innovazioni e valorizzazione della Favolosa sono i temi al centro del Giovane Favolosa, l'evento in corso in queste ore a Trani, in cui produttori, esperti, assaggiatori e docenti universitari discutono sulla possibilità di creare una comunità di produttori. L'Italia ha deficit strutturali di prodotto, abbiamo meno prodotto di quanto il consumatore ce ne chiede e ancora meno di prodotto di alta qualità, quindi abbiamo spazi importanti di crescita che vorremmo insieme a tutti i colleghi disponibili dal Lago di Garda alla Sicilia mettere in un unico progetto di alta qualità. La Favolosa, per le sue caratteristiche tecniche e per la raccolta anticipata ad ottobre, consente di avere un novello vero e permette agli imprenditori italiani di guardare ad un futuro diverso dell'agricoltura. Un olio di qualità deve caratterizzarsi per un profilo sensoriale, quindi avere degli attributi positivi, deve essere privo di difetti e deve avere un buon contenuto di composti fenolici. È ovvio che è importante nel processo di estrazione per produrre un olio di qualità quello che è il valore del prantoiano, quindi il maestro di Al Mazzara sostanzialmente. I parametri che devono essere controllati sono tutti i parametri della ricezione delle olive, i parametri di trasformazione del processo, quindi acqua, temperature, tempi della ricezione delle olive, essere il più veloce possibile. Quindi è ovvio che il valore del prantoiano è importante per poter andare a coordinare tutti questi parametri nel processo di estrazione. Ottanta aziende pronte a formare 300 giovani che non studiano e non lavorano sotto la supervisione dell'Università degli Studi di Bari. E' questo il progetto che è stato presentato a Bari. Vediamo il servizio di Antonella Fazio. Inserire 300 giovani net pugliesi in percorsi di formazione professionale. L'obiettivo di Reskill to Work, il progetto di cui il Consorzio Meridia di Bari è capofila presentato durante il convegno digitale LEVA per il futuro della Puglia al Politecnico del Capoluogo. Durante l'incontro è stata presentata l'intera iniziativa destinata a circa 300 net, cioè quei giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di formazione per offrire corsi gratuiti nel settore del digital marketing, della UX design e della sicurezza informatica. A derogare la formazione è stata la Talent Garden Innovation School, mentre a certificare le competenze acquisite sarà l'Ateneo Barese a giugno prossimo. Al momento Reskill to Work ha coinvolto 250 ragazzi già pronti per essere collocati sul mercato e 80 aziende. E questo per loro è stato un modo per arricchirsi, per poter potenziare le proprie capacità e anche poter esplorare nuove modalità per affacciarsi sul mercato del lavoro, potenziate da esperienze pregresse in quanto NIT. Oggi ne abbiamo 250 circa di ragazzi già pronti per essere collocati sul mercato, diversi di loro sono già stati matchati, come possiamo dire, infatti in incrocio domanda offerta con aziende del territorio. E questo viene fatto attraverso dei corsi mirati verticali, in grado di assicurare a giovani la possibilità di acquisire un know-how importante in domini strategici per il territorio ma anche per il paese. Vediamo così questa edizione del nostro Tg provinciale per Bari, Battefoggio, ma l'informazione su Antenna Sud proseguirà tra pochissimo con il Tg di Taranto e Provincia, poi le 14.30 a Brindisi e Provincia e a seguire 14.45 il Tg del Salento. Grazie per l'attenzione e arrivederci a tutti.